Un uomo residente a Caltanissetta di origine nigeriana aveva dichiarato di avere lavorato in Italia ed avere percepito un reddito sufficiente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Così avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi avvalorata da quattro fatture di acquisto di merce che sarebbero poi state emesse da un commerciante catanese. Ma dagli accertamenti, i condotti, dagli uomini dell'ufficio immigrazione della costura di Caltanissetta la verità pare fosse ben diversa perché l'uomo non risiedeva più in Italia da oltre un anno. Così è stato denunciato insieme al professionista che avrebbe curato parte della documentazione e al commerciante che avrebbe fornito le fatture adesso segnalati all'autorità giudiziaria.